Quindi resistono i pesci rossi che si fanno sembrato la fredda? Poi c'è che non importa niente, freddo, caldo, cioè possono arrivare tranquillamente a 5 gradi. Poi se si gela l'acqua, ci sono i sistemi, posso mettere il pallone di gomma al centro, è già un buon sistema, ti tiene l'acqua sempre sgelata. Poi se proprio deve navigare metto un tessuto o un tessuto. Grazie a tutti.